Per il blog di IAB incontriamo Vittorio Lorenzoni, country manager di TradeJabler. Ciao Vittorio e bentornato sul blog di IAB. Buongiorno a voi, benvenuti. Siamo a IAB Forum. Vittorio, si è parlato molto di crisi economica anche oggi in sessione plenaria. Come Internet può essere un media positivo per le aziende in questo periodo di crisi? Io credo che Internet possa rappresentare un investimento sicuro per i nostri investitori, proprio perché è anche un investimento sicuro che non è un investimento buttato come potrebbe essere su altri mezzi dove non c'è una misurazione del ritorno, ma può garantire la misurabilità del ritorno a fronte dell'investimento. Il search in questo senso può essere una buona forma di investimento per le aziende? Sicuramente tutto quello che ruota attorno al keyword marketing, quindi il search, è un ottimo investimento. Teniamo presente che in tutti i paesi del mondo, e io ritengo anche in Italia, nonostante quello che alcuni vogliono farci credere, io ritengo che anche in Italia il 70% degli investimenti sia legato alla search. Quindi secondo me gli investimenti totali, quindi secondo me gli investimenti totali nel mondo dell'advertising online sono molto maggiori di quelli che vengono stimati. Io sono abbastanza convinto che noi siamo in linea con quello che fanno in Spagna, in Francia, in Italia, negli Stati Uniti, ovviamente con volumi più bassi, ma con percentuali analoghi. Per cui ritengo che anche in Italia il 60-70% degli investimenti siano legati alla search, ed è questa la garanzia migliore per gli investitori di poter misurare il ritorno dei loro investimenti. Per cui in questi momenti di crisi ritengo che gli investimenti online e a maggior ragione gli investimenti legati alla search sono investimenti sicuri, investimenti che possono dare un ritorno immediato e misurabile agli investitori. Siamo a Yabforum, un tuo commento su questi due giorni di advertising online? Io sono sempre, ricordo ancora il primo, sono sempre impressionato dalla quantità di persone che ci sono, oggi parlano di oltre 6.000 iscritti, io non so quanti siamo, effettivamente la folla è enorme, anche il numero di padiglioni, il numero di sponsor è in crescita perenne. Ricordo il 2003, eravamo in quattro agatti, ci si conosceva tutti, qui la maggior parte delle facce per me sono completamente nuove, questo per me è un segnale bellissimo. Grazie Vittorio, a presto. Grazie a voi.